Una storia di quattro anni, non pochi, quando se ne hanno appena 19, scivolata via liscia per i primi due, poi contradimenti, accuse, flirt, reciproci, tesi a ingelosire il partner, che dopo Natale partner non era più, almeno per Maria Teresa Dromi, mentre Patrick Mallard non si era ancora reso all'idea. Pare che la stessa ragazza avesse parlato con Daniele Tanzi, l'attuale fidanzato ufficiale di questa strana situazione, forse senza mai definirsi davvero del tutto ex, in una sorta di triangolo ancora poco chiaro e che forse i tre giovani provavano a dipanare e definire. A farlo ci ha pensato Patrick, nel modo più violento possibile. Il passato e il presente del giovane di Parma parlano di un ragazzo molto timido e poco socievole a scuola, ma non violento, come invece testimoniano a suo svantaggio le parole della madre di Maria Teresa e della stessa ragazza, oltre ad una denuncia all'autorità minorile per un'aggressione avvenuta qualche anno fa. Patrick aveva frequentato l'Ipsi a Parma nel 2017-2018, collezionando il 50% di assenze e poi ritirandosi, operatore meccanico, lo stesso indirizzo scelto da Daniele Tanzi a Santa Chiara, a Casal Maggiore, percorso che il 19enne casalese di origine foggiana aveva invece concluso regolarmente dopo tre anni. Ora Patrick Mallardo andava a scuola a Reggio Emilia all'Istituto Simonini, operatore per impianti elettrici. Ed è vero che pure qui le assenze erano parecchie, ma Patrick sembrava più interessato, stava dando le prime risposte anche in termini di socializzazione con i compagni, dicono i professori alla Gazzetta di Parma. Insomma, nulla a che spartire con quelle note disciplinari prese all'Ipsi a Di Parma, non per comportamenti violenti, ma perché si addormentava sul banco. Intanto emerge una piccola novità a livello giudiziario. Gli avvocati che difenderanno Patrick Mallardo sono infatti tre. A Francesco Savastano di Parma, amico di famiglia e nominato dalla madre di Patrick, e Alessio Barboni di Guastalla, nominato dal padre di Mallardo che risiede a Reggio Emilia, si aggiunge Raffaella Santoro di Parma. Il giovane rimane nel carcere di Via Burla aspettando la convalida del fermo attesa al massimo per lunedì, quando poi verrà studiata la strategia difensiva.